Questa mattina nella caserma Saletti di via 15 giugno si è tenuto un seminario sul sistema previdenziale della polizia ed è stata anche l'occasione per il passaggio di consegne alla guida del sindacato provinciale. Finisce oggi un lungo percorso alla guida del sindacato, un percorso complesso ma denso anche di soddisfazioni. Sì, assolutamente, oggi finisce un percorso lungo dal 2009. Sono emozionata, però sono anche contenta perché ho trovato persone giovani che sapranno guidarlo nella maniera migliore. Anche sul nostro territorio la sfida delle donne, degli uomini e della polizia è quello di coniugare il mantenimento dell'ordine pubblico con un grande senso di umanità. La nostra sfida è quella di continuare a tutelare i diritti dei colleghi e continueremo l'impegno nel sociale come è successo pre-covid. e anzi colgo l'occasione, se ci fosse anche qualche dirigente scolastico all'ascolto, colgo l'occasione per continuare questo sostegno nella lotta contro il bullismo. Noi ricominceremo a girare anche nelle scuole per portare la cultura della legalità tra i ragazzi. Lei è il nuovo segretario, qual è l'obiettivo principale che si prefigge? Stare sempre vicino ai colleghi in qualsiasi situazione, tutelare i loro diritti e portare, come le dicevo poc'anzi, avanti la cultura della legalità nel territorio. Un momento di dibattito e di confronto dove è emerso come problema centrale il mancato ricambio generazionale. Gli organici della Polizia di Stato sono fortemente sottodimensionati. Noi pattiamo i tagli della spending review da un organico complessivo che era attorno ai 118 mila, nel 2015 è stato ridotto a 106 e oggi effettivamente siamo 97 mila. Quindi mancano 10 mila uomini alla sola Polizia di Stato, ma le stesse proporzioni sono su tutto il comparto sicurezza, quindi per tutte le forze dell'ordine. Di fatto mancano circa 40 mila uomini per la sicurezza del Paese. Ed è indispensabile che questi organici vengano ripianati per garantire efficienza, efficacia e soprattutto presenza sul territorio.